Il 27 ottobre in Umbria avverranno le elezioni. Andiamo a conoscere i candidati. Oggi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Paola Fioroni, alla donna Paola Fioroni, alla cittadina Paola Fioroni. Domando, lei si candiderà? Ecco, perché questa scelta? Io sono estremamente convinta che l'Umbria abbia bisogno di togliere il freno a mano. È una regione ferma, una regione che ha tante problematiche sotto tanti punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle connessioni all'interno d'Italia e con il resto d'Europa. È una regione che è stata per troppo tempo, per troppi anni, semplicemente amministrata da una politica autoreferenziale lontana dai cittadini. E ora abbiamo bisogno di riportare l'Umbria agli Umbri. Abbiamo bisogno di una buona politica che ascolti le esigenze e le necessità delle persone e soprattutto sappia anche rispondere a quelle che sono le esigenze dell'imprenditoria, del turismo, dell'agricoltura, di tutto il tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale di questa regione. Lei è famosa perché è un'esperta di sociale. Ecco, quale immagine sociale può dare la Lega? Quale contributo può dare la sua esperienza nel sociale in Umbria? Io vengo da un'esperienza ormai quindicinale nell'ambito del sociale. Sono partita da un'esperienza sul campo per poi rivestire ruoli istituzionali nazionali e questo mi ha aiutato a conoscere quali sono le realtà di tutto il territorio nazionale e di conoscere anche le buone pratiche in quelle che sono le amministrazioni di altre regioni, quella che è l'attenzione di queste amministrazioni verso le esigenze delle persone più vulnerabili. Quella che vogliamo noi è una regione e quindi un'amministrazione regionale che sappia ascoltare le persone, che sappia stare vicino alle persone e che sappia conoscere in maniera approfondita quali sono i reali bisogni a cui rispondo, dandogli un senso di priorità importante perché le difficoltà, le vulnerabilità del nostro tessuto sociale sono veramente importanti e importanti anche riduttivo, sono quasi emergenziali, anche se la povertà che è una delle più grandi situazioni di difficoltà di questa regione non è un'emergenza ma è un fenomeno strutturale e così va affrontata nella sua natura multidimensionale cercando di dare risposte a tutte quelle che sono le realtà che poi portano le persone in situazioni di indigenza. Faccio dei numeri che sono numeri importanti. L'Umbria ha 880.000 abitanti. Di questi 880.000 abitanti, 150.000 versano in situazione di povertà relativa. Abbiamo un indice di povertà relativa che è uno dei più alti del centro Italia, se non il più alto. Una situazione che chiaramente in qualche modo dobbiamo saper affrontare. La regione è una regione che sta subendo una perdita continua di popolazione. L'indice demografico questo ci dice. Ci dice che abbiamo un saldo negativo della popolazione che è sempre più in incremento. Dobbiamo sostenere politiche che vadano incontro alla famiglia, che vadano incontro alla natalità, che vadano incontro ai giovani e soprattutto che vadano incontro alla creazione del lavoro. Ed ecco che le politiche sociali chiaramente si incontrano con quelle che sono le politiche attive del lavoro. Perché è importante, come ho detto prima, che la povertà sia affrontata nella sua multidimensionalità. E quindi sono tutte quelle che sono le cause che portano alle situazioni di grave difficoltà. La socialità, quale elemento di civiltà? Lega e socialità è compatibile? Certo che è compatibile. La Lega è sempre vicina al cittadino, ascolta le problematiche del cittadino. Questo Matteo Salvini sta facendo anche in questa campagna elettorale. Sta vicino alle persone, mostra una politica che sa ascoltare le persone, mostra una politica che sta in mezzo alle persone. Questo vogliamo fare. Vogliamo diventare punto di riferimento per le persone che si trovano in difficoltà. Penso alle persone che hanno difficoltà legate alla disabilità. Penso soprattutto alle famiglie che hanno difficoltà legate alla disabilità e che sono lasciate per troppo tempo solo. Sono state lasciate in una situazione di abbandono per certi versi. Quindi è necessario veramente ascoltare le persone, ascoltare le criticità. È necessario porre in essere politiche realmente inclusive e politiche che siano efficaci ed efficienti.